Tutti da salutatore, ecco qui vi trovo con un grande campione, Massimo Fischetta. Buonasera a tutti. Ci troviamo con questa nuova avventura, l'associazione Nico. Oggi la presentazione delle eccellenze in tutte le discipline. Ci sono gli olimpionici che sono i veri atleti, non come noi ex calciatori, però chiaramente per noi, per me soprattutto, è un onore stare accanto a gente che ha veramente fatto delle cose meravigliose. Ecco, che aspettative ci sono? Abbiamo questo connubio sport e solidarietà. Ecco, hai detto bene a te, solidarietà vuol dire portare in giro un po' di sorriso, passione per questo sport che rimane sempre uno sport, secondo me, deve rimanere uno sport di strada che è il calcio. Ecco, io ti ringrazio e come auspicio ti do la manina del salutatore per salutare tutti quanti. Grazie. Ciao, grazie a te. Grazie a te. Ciao.